Ha preso il via nel pomeriggio di sabato 24 agosto la dodicesima edizione della 24 ore del donatore FIDAS. 325 donatori di sangue che hanno raccolto l'invito presso le antiche terme di Giunone e di Caldiero e si sono alternati fino alle 16 di domenica nelle vasche della piscina olimpionica della struttura. Ogni partecipante ha notato per 15 minuti con l'obiettivo di superare i record degli anni precedenti. La volontà è quella di trasmettere un messaggio importantissimo. Una staffetta che dura 24 ore proprio per testimoniare che la necessità di sangue è sempre presente ma che tutti assieme possiamo collaborare e far sì che questa mancanza venga meno. Il bisogno di sangue infatti non si ferma mai soprattutto nel corso dell'estate quando i donatori sono spesso chiamati a superire alle emergenze. Siamo veramente felici come Caldiero di ospitare questa manifestazione e soprattutto vogliamo ricordare l'importanza che questo incontro, questa manifestazione sportiva ha proprio per la promozione dell'adorazione del sangue. È importante donare sangue, donarlo in estate ed è importante soprattutto ricordarlo a noi, a Caldiero e a tutta Verona. Quindi doniamo sangue!